Vai alle poste, vai alle poste, ci hanno circa 10 sportelli o 9 sportelli a Pescara, a Via Passolangiano, ne lavoravano 3. Allora la mia domanda è, tu dovevi pagare una bolletta, chiedo scusa, stamattina ho fatto una cazziata a uno, anzi me la son presa con uno, che non c'entrava niente poverina, faceva giustamente, ti chiedo immensamente, no ma ero proprio arrivato, è arrivata proprio la coach perché dovevo correre per lavorare, dovevo fare sto benedetto, diciamo così, un baglia di 16 euro eccetera eccetera, perché te li mandano una alla volta e vedendo tutta questa gente, vedendo 3 persone solamente, hanno detto che sono malati, tutti malati stanno in sto periodo, stranamente, ho chiesto, sono passato avanti, era andato capito a uno sportello superando questo signore, giustamente lui mi ha rimproverato, mi ha rimproverato perché dice che stai fare l'italiano svelto, che l'ho detto sempre io, e questa volta mi sono comportato in questa maniera, chiedo scusa immensamente, anche in ginocchio mi mette se vuoi perdono, cioè te ne sei accorto solo dopo praticamente, no lui se ne è accorto subito poverino, no ma tu te sei accorto dopo che sei passato avanti, no no io me ne sono accorto subito, ah ho capito, me ne sono accorto subito però ne è marcito la colpa, e gli ho detto a lui, io ci sono provato, ne è marcito e tu te ne è corto eccetera, poi siccome lui stava esagerando, io ho risposto male, addirittura il volo di me naso, ho detto vi forse che ti tengo un po' di sardello, e ho sbagliato, ho sbagliato, ti sto dicendo che io ho sbagliato, chiedo scusa immensamente perché non è nelle mie cose, solo che ti fanno partire lo cervello, tu ogni volta che vai alle posti è una cosa impressionante, oh non lavora più nessuno, vai alla banca, non posso dire il nome della banca ma mi dispiace da morire, tu entri, ci stanno sportelle solo aperte, allora la mia domanda, dico al direttore, direttore ma come mai? scusa ci sta tre sportelle, almeno due che lavorano, noi stanno tutti malati, allora di chi stiamo a parlare? cioè di che cosa stiamo parlando? L'italiano è arrivato ad un punto che vorrebbe guadagnare i soldi, prendere i soldi senza lavorare, io questo sto notando, chiedo scusa di nuovo a quel signore che non so neanche il nome, ti chiedo scusa, perché a voi italiani, a voi italiani, io pure sono italiano, però a voi italiani manca la cultura dell'attesa, l'attesa, sapere attendere è la cosa più bella che c'è, perché vi spiego perché, vai a fare un'operazione in banca, vai a pagare un bollettino alle poste, va bene, corteggi una ragazza, corteggi una donna, la cultura dell'attesa, nel momento in cui tu ottieni il tuo scopo, la bellezza di quell'attesa lunga, snervante all'ufficio postale, è finita, capisci? Quando hai ottenuto lo scopo del bollettino pagato, che ti dà più la vita? questa ragazzi, questa è poesia, la cultura dell'attesa, così come la cultura dell'innamoramento tra un uomo e una donna, c'è la fase di l'amore lunga, bella, l'attesa di, nel momento in cui tu ottieni, o lei ottiene il suo risultato, finisce tutto, quindi, godiamoci anche l'attesa più prima. Oh, prima che mi diventi Gianfranco, fammi ricordare una cosa, perché a proposito della...